Vuoi comprare crediti o account pieni zeppi di crediti per spacchettare per i toz assurdi? Allora passa nel link in descrizione, codice Justiz per un piccolo sconto. Buona prima ragazzi, qui Justiz e oggi siamo tornati in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo, oggi parleremo di che cosa potrebbe accadere a FIFA 18 nel caso Ronaldo lasciasse il Real Madrid. Come ben saprete da giorni, ormai non si parla d'altro, Ronaldo sarebbe ai ferri corti con il Real Madrid per questioni legate all'evasione fiscale della quale è stato accusato il mancato appoggio che secondo lui avrebbe avuto dal club Real Madrid. Quindi ormai la rottura sarebbe praticamente ufficiale, la domanda principale è dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo. Ci sono ovviamente il cartellino, è un prezzo assurdo, ci sono le due squadre in pole position, sarebbero il Paris Saint-Germain e il Manchester United. Secondo me però il Paris Saint-Germain neanche si potrebbe, va considerato perché secondo me è un giocatore del calibro di Ronaldo che ancora può giocare ad altissimi livelli, che ancora gioca ad altissimi livelli, non andrebbe mai in un campionato morto tra virgolette come la Ligue 1 dove ci sono due squadre praticamente, il Monaco e il Paris Saint-Germain che appunto sono molto molto più forti rispetto alle altre. Quindi secondo me non andrebbe mai in un campionato come la Ligue 1, poi posso sbagliarmi. L'ipotesi più accreditata, almeno a mio parere, sarebbe il fatto di tornare allo United. Ora, questo che cosa comporterebbe riguardo FIFA 18? Abbiamo visto trailer, body trailer, Ronaldo che ha annunciato FIFA 18 sul suo Instagram, sponsor ufficiale, dopo che Messi e Barcellona hanno firmato con PES, appunto, con la Konami. Quindi Ronaldo da tutte le parti, da tutte le parti, è stato sul trailer, c'era solo Ronaldo praticamente, ovviamente era con la maglia di Real Madrid, quindi nei trailer, nell'ingame, insomma nel gameplay mostrato, nelle cinematiche, era dovunque appunto con la maglia di Real Madrid. Anche, anche nel viaggio abbiamo visto, c'è uno spoiler di Ronaldo che parla appunto con Alex Hunter, quindi si presume che i due si incontreranno anche sul campo e ovviamente Ronaldo dovrebbe essere con Real Madrid. L'I Esports ancora non ha dato, non si è espressa in merito, quindi non ha dato una sua posizione in merito alla questione Cristiano Ronaldo nel caso dovesse andare via, però le conseguenze, diciamo, non sarebbe facile, ecco, la situazione per l'I Esports e non è facile in questo momento, perché per prima cosa andrebbe, vabbè, la cosa diciamo più facile, rifatta, ristampata, la copertina, ovviamente, perché in copertina abbiamo già visto, c'è Ronaldo in primissimo piano con la maglia del Real Madrid, quindi lì andrebbe risparmiare, ma quella è in meno, perché poi devi cambiare tutto quello che c'è appunto nel gioco. Ma la cosa più complicata ovviamente è il viaggio, perché una cosa è cambiare Ronaldo, magari in Ultimate Team, è la carta che non ci metti in nulla, una cosa è cambiare praticamente la trama del viaggio, cioè non dico la trama, però spostarla, non so in che modo, insomma, far tornare Ronaldo allo United o il PSG o in qualunque altra squadra che gli voglia andare, o anche farlo rimanere a Real Madrid, noi stiamo parlando per ipotesi, però nel caso volessi andare via non sarebbe affatto facile mettere un po' le pezze. Ovviamente il danno più importante si sarebbe dal punto di vista del merchandising, del marketing, perché ovviamente finora hanno spammato Ronaldo e Real Madrid come pochi, come pochi. Una cosa, diciamo, positiva, tra virgolette, è che lo United è anche suo partner con gli esports, com'è per esempio anche la Juventus, quindi questa potrebbe essere, diciamo, una cosa, dato che gli esports appunto e lo United hanno già un rapporto appunto commerciale, eccetera, eccetera, potrebbe essere una cosa che limita i danni nel caso appunto Ronaldo tornasse allo United. Fatemi sapere, voi che cosa ne pensate? Che cosa potrebbe accadere a FIFA 18 nel caso Ronaldo lasciasse il Real Madrid? Vi ripeto, la situazione non è facile, potrebbe portare a un danno, secondo me, non indifferente per quanto riguarda le vendite proprio di FIFA 18. Una cosa simile è accaduta precedentemente anche con Bale quando passò dal Tottenham a Real Madrid. Il problema lì era che Bale non era l'uomo principale per tutti i paesi, l'uomo principale per tutti i paesi è sempre stato Messi, quindi Bale, diciamo, che ha portato un danno, tra virgolette, relativo, relativo. Qui sarebbe ben diversa la storia. Se l'anno scorso avevamo diversi testimoni a Ames Rodriguez, Royce, eccetera, eccetera, quest'anno è stato tutto incentrato su Ronaldo, quindi sarebbe veramente difficile la situazione. Vedremo un po' come si valverà la situazione, ma fatto sta che Ronaldo, le ultimissime notizie negli ultimi giorni, avrebbe aperto alla possibilità di tornare allo United. L'O United che si è appena liberato, anche se è brutto da dire, insomma, dell'ingaggio di Ibrahimovic, quindi potrebbe, certo, comunque Ronaldo prende un bel po' dei sordi, però diciamo che sarebbe veramente, secondo me, emozionante rivederlo allo United, ma allo stesso tempo, per quanto riguarda FIFA 18, vedremo un po' come si comporta la D-Sports, ma fatto sta che comunque dovrà fare i miracoli. Fatemi sapere, vi ripeto, che cosa ne pensate, iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le novità, le news su FIFA 18, mi raccomando, passate anche dalla mia pagina di Facebook che è in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio, come sempre, per la visione. Ciao!